Siracusa ha denunciato un uomo per inosservanza all'obbligo di dimora. Nella serata di ieri, nel corso dei quotidiani controllo e coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 24 anni sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e risultato assente. Gli agenti della scuola mobile hanno denunciato un uomo di 43 anni che a seguito di perquisizione domiciliare è stato tornato in possesso di una cartuccia in esplosa calibro 7.65.